Vuoi davvero imparare come si tiene la contabilità? Vuoi conoscere un nuovo mestiere? Vuoi diventare un contabile amministrativo? Allora segui il corso base di contabilità dello studio allievi dottori commercialisti. Lo scopo del corso è quello di fornire tutte le conoscenze pratiche e le competenze sulla ragioneria, partendo da argomenti base e raggiungibili da tutti. Non è richiesto il possesso di alcun diploma specifico per poter partecipare e dal termine del corso ti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrai inserire nel tuo curriculum vitae. Oltre 400 corsisti prima di te hanno già seguito il corso di contabilità dello studio allievi dottori commercialisti. Il prossimo corso si terrà a Sesto San Giovanni, proprio vicino a te. Affrettati a richiedere informazioni. Il numero di posti disponibili è limitato. Per poter ricevere il programma dettagliato del corso con le indicazioni di giorni e orari, chiamalo 0237 9203 80 oppure manda un'email a infochiocciolastudioallievi.com Grazie! Grazie a tutti!